Coci Schiavo siamo qui al termine della stagione, ultima trasferta della stagione, una partita che ci ha visto sconfitti 3 a 0, una partita che chiude un percorso, un cammino, partiamo un attimo dal dato del campo e poi magari ci affacciamo un po' sulle considerazioni generali anche su questa stagione. Il dato del campo è incontrovertibile, meritato nella direzione di Chieri, sicuramente hanno approcciato la partita in maniera migliore rispetto alla nostra, ci hanno messo da subito in difficoltà in battuta, se noi non abbiamo un cambio palla fluido proprio come struttura di squadra paghiamo. Tutto l'anno che è così non me lo aspettavo, sinceramente, brave loro, noi dovevamo fare assolutamente meglio, probabilmente a livello di approccio è stato sicuramente meglio loro e dopo noi non siamo più riusciti a venire fuori dalla buca iniziale. Abbiamo pagato forse anche un po' lo scarico mentale dopo il risultato della scorsa settimana, in qualche modo la squadra forse stava già un attimino pensando al risultato già acquisito. C'è da mettere sempre nel conto che abbiamo fatto tre mesi a tutta in grossa difficoltà, quindi anche a livello mentale due o tre volte abbiamo avuto la possibilità di portare a casa un qualche punto e non l'abbiamo mai portato a casa. Noi dopo domenica a livello veramente mentale eravamo praticamente esauriti, quindi dopo questo non giustifica la prestazione, però è comprensibile che a livello mentale si sia fatta molta fatica. Dopodiché, anche a livello tecnico abbiamo fatto male, però sicuramente l'aspetto dell'approccio alla partita non è sicuramente quello che mi aspettavo. Non mi va di gettare la croce addosso alla squadra, che comunque se fino alla settimana scorsa il risultato acquisito abbiamo incensato perché aveva fatto bene, mi sembrerebbe anche poco coerente dire stasera hanno fatto il diavolo. Mi ha sbagliato l'approccio, fa male, non ce l'aspettavamo, non è mai bello fare una partita di questo genere, è andata così. Una considerazione a questo punto, è caduto l'ultimo pallone, si chiude, va in archivio questa stagione, qualcosina ce la siamo già detta settimana scorsa, ecco l'idea comunque sia che in qualche modo si sia gettato un po' il seme o qualcosa per poter ripartire, magari capire e poter correggere un po' le traiettorie, ecco qualche sensazione di fine stagione? Beh, fondamentalmente da quando è arrivato il ripescaggio io non l'avevo ancora firmato per il club, quindi andiamo indietro un bel po', l'obiettivo era quello della salvezza, la salvezza è arrivata con una giornata d'anticipo, quindi fondamentalmente la stagione è stata positiva o perlomeno in linea con le aspettative, si poteva fare di più sì, si poteva fare meglio, probabilmente sì, se dovessi scrivere un libro di quest'anno ce ne sono successe parecchie, quindi in fin dei conti bisogna avere anche un pochettino di lucidità, forse basterà lasciare passare un po' di tempo per analizzare quello che si è fatto, in che condizioni si è fatto, a volte neanche per colpa nostra, comunque fa parte dello sport, di conseguenza al di là che si potesse, ripeto, fare meglio, io credo che la stagione sia positiva, ovvio, rimane l'amaro in bocca per qualche situazione, come anche per stasera sinceramente, però ripeto, a luglio questa squadra si doveva salvare e il 20 ai rotti di marzo si è salvata, quindi l'anno prossimo Filotrano farà ancora la 1, quindi questo era l'obiettivo, l'obiettivo raggiunto, sul resto ci sarà tempo per pensare su, insomma. E adesso avrai modo di riposarti un attimo, come ti sveglierai domani e non avrai una partita da pensare, insomma, che effetto ti farà dopo tanti mesi? Beh, fa parte del nostro mestiere, sappiamo che siamo dei fortunati, che fanno della loro passione il loro lavoro e lavorano per pochi mesi, rispetto alla gente, dico, tra virgolette, normale, quindi ci godiamo il riposo e poi comunque ci sarà comunque da lavorare, sia a livello personale, sia che i club dovranno preparare la prossima stagione, di conseguenza, sì. Sappiamo che in quei mesi che c'è da lavorare c'è da andare a mille all'ora i giorni liberi, se non ci sono fa lo stesso, adesso che è un qualche giorno libero ce lo diamo sicuramente, ci meritiamo un pochettino di riposo, insomma. Allora, buon riposo, coach, lo possiamo dire. Sì, grazie mille e a presto.